Ops a tutti ragazzi e ragazze come state? Oggi sono qui solo per voi per il trigger numero 18 del calendario dell'avvento ASMR. E cosa avrò scelto oggi? Per scoprirlo indossate un paio di cuffie o auricolari, stendetevi sul vostro letto e chiudete gli occhi, va bene? Io oggi ho scelto il trigger della carta regalo, quindi adesso farò un pochino di trigger, un minutino, con la carta così, poi ne taglierò un pezzo e giocherò con quel è un pochino? Ok? 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 Grazie a tutti. Adesso ne tagli un pezzettino. Ok, ho tagliato questo quadratino qua. Ok. 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 Cucu, cucu, ora tocca a voi, iscrivetevi al canale se siete nuovi per entrare a far parte della Ups Community e se siete dei maschietti diventare i miei Upsini mentre se siete delle femminucce diventare le mie Upsine. Poi mi raccomando lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e commentate qua sotto tutto quello che vi passa per la testa. Il video di oggi purtroppo finisce qui ma se voi volete potete restare ancora insieme a me perché ora vi lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua da qualche parte il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video vi vogliate, va bene? Quindi buonanotte, buonanotte e noi ci vediamo domani.